Sì, è un rischio. E se è ucchio, ma... No, è ucchio. Ma tu non sai cosa ho visto. Stiamo parlando. Si sta filmando, in realtà ci sta filmando. Ti ho maledetto. Sì. Con lo sguardo molto quello qui. Anche te lo so gli occhiaio, grazie. Ma gli altri gruppi non vengono? Non ne ho idea, fanno qualcos'altro. Sì, è un gioco. Non ne ho capito. Non ne ho capito. Non ne ho capito. Non ne ho capito. Tu non vengono, non vengono. No, ma che se no non devi tornare i cagli. Vado a chiedere cosa. Oh, ma sorry. Non vengono. E se mi sta tornando indietro. David Ciclo, eh. L'angitale. Sì, lo so. È già lì. Però è tutta un'altra storia. Sì, che cazzo c'è. Io credo che la cena va dalle sette e mezza fino alle nove. Nove e mezza. Sì. No! Sì, che cazzo cazzo cazzo. Ciao ragazzi, come sei? Oh, bene, bene. Cazzo cazzo. Cazzo. Cazzo cazzo. Cazzo cazzo. Ok, è il B happy Ho appena detto che devi sentire la mia foto Sì, ho sentito È una bolle Soglieteli, ti deve fare la foto Li chiamo prima I work for the Hamstar, City of Hamstar's real estate office And I've been a project manager for this project, the new built Hamstar Arena But for us, Hamstar Arena is not just the new building, it's the old area is Hamstar Arena now So, in Hamstar Arena we have a water park, we have an ice rink, it's like 5000 spectators We have a training rink for ice skating And then we have all this for indoor sports, like handball and Asian contact sports I'm gonna show you all the things around here But on the outside we have a lot of soccer fields It's like 12 full-size soccer fields and 5 small-size soccer fields And then we have artificial soccer fields, the two of them, so we can use all over the year And so that we have an indoor football arena for practicing, not for playing games So, for us it's a unique area for Sweden actually to collect a lot of sports at the same spot So, and the latest thing we're working on now is the skateboard park It's been under construction, we've got to be ready next year So, we're going to take you for a guided tour around and show you what we've got here So, feel welcome to us Thank you We started here I'm recording The arena The arena I'm recording This is the main entrance for big events We have special edition collection here So this is actually two handball tables together We can split… We can have a concert in here We can build a stage over there Pick all the gear in from the back e si mette 4.500 persone, spectatori. Per un gioco handball, si mette le sceglie fuori dall'interno e si mette il gioco in questo modo e si mette 3.000 giocatori per un gioco handball. È unico, molta luce. Abbiamo un ristorante là, per l'Arena Lounge e la pressa è lì. Il Hamster ha un team di handball elite che giocava qui nel gioco. Ma cosa è un gioco handball? È un gioco handball. Ah, handball! È un gioco È un gioco E un gioco, ok. Ah, cool. È molto bello. Pico, è scarico. Sì, un po' Devo... Magari se la depiscio per terra se non ho passato l'ammoniaca. Come è carino? Sì, è scarico. C'è un gioco In questo gioco è il gioco Il gioco Il gioco Il gioco C'è un 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 gioco Il gioco C'è un gioco C'è un gioco C'è un gioco C'è un gioco Il gioco C'è un gioco Perché la hotta C'è un gioco Qui si metto когда va aれる C'è un gioco C'è un gioco Presente con l'energia termica risulta dell'impianto di refrigerazione per fare il palazzetto del ghiaccio, per la pista del ghiaccio, fanno il teleriscaldamento, quindi con uno scambiatore di calore riscaldano l'acqua, quella è una centrale di teleriscaldamento, sostanzialmente, è la stessa compagnia che produce il teleriscaldamento con l'energia elettrica. Sì. Non lo produciamo con l'elettricità, lo produciamo con l'acqua, con l'acqua. È la stessa compagnia che produce l'elettricità, è la stessa compagnia. Praticamente qui che cos'è? Fanno tutto, palestra. Sì, sì, sì. 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 Ok. Non c'è il culo, non la tengo nessuna. È una palestra del genere, la sfada da iobas. C'è? 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 C'è la... C'è? C'è? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sì, sì. Una figata. Cioè, ma ben già fatto tutta sta strada, mi sembra. No. O. Ok. 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 Czemu tu di muove, ci asiandery? ... 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 media, altri gruppi, ovviamente gli atleti e i clubi, che sarebbero uscire. Abbiamo un hotel e molti catering, alcuni restauranti che potrebbero uscire un consiglio di uscire in quanto riguarda. Penso che questo è stato un successo per noi, quando abbiamo usato. E' davvero usabile per tutti gli altri. Se non succederebbe così bene, abbiamo fatto bene dopo ora. Abbiamo costruito una piattaforma a un livello, perché è difficile per la camera per filmare in questo angolo. so quiet what's that little orange area the orange area is for I think for basketball we have it is Fanta sorry it's not we play with plastic sticks and a small plastic ball how do we call it in English? floor ball floor ball floor ball floor ball floor ball floor ball never seen we have almost any indoor sports except tennis we can do here because we have a big tennis arena in Halmstad so we didn't want to compete with them but this is used only by the biggest sport in society? or can be also used by anyone? you can hire you can just contact Swante here sorry just for curiosity how much does it cost? it's not that expensive do you know the price Swante? no I don't it's a couple of hundred crowns like 50 euros or something to have a party in here for an hour or so ok ok because we pay up price but we stay in a I guess in a place which is ten times less than this one so Halmstad Halmstad is if you have if you have what do you call it athlete club and you you do it for young people under 18 it's free it costs nothing ah of course typical it's the same no it's not it is no I got it four times it's only unique in Sweden as well in a lot of other cities have to pay for even for you for the youngest of them yeah it's still free in Sweden at least he didn't see in Halmstad yeah sorry just for curiosity the support trainers are paid by the society or by the municipalities or they are volunteering paid by by the club ok directly by the clubs ok most of the leaders don't get paid at all they do it under three times yeah but the elite trainers or something of course it depends on the level you are ok ok that's good I think this is the same now where are you? so this place continue it makes you want to play right? yes it makes you want to play let me concordo stefan insane mmm e funziona eh si penso che voglia che andiamo con lui non abbiamo idea guarda Perchè non è molto simpatico? Perchè non è molto simpatico? Perchè non è molto simpatico? Non mi ricorda come si chiama? Una volta la sapevo Venga scoperta che da qua Non so come si è fatto Sei tu Hai contato gente di prima? Si Ah ma stavo registrando tipo due ore Quindi ti ha detto che vuoi cantare Questo lo metterai Che pote stai Che pote stran Ma io dico qua Io dico ma qua non serve neanche che usino il raffreddatore Fa più freddo fuori che qua E' ghiaccetto Che è enorme E' tre volte più piccola Altro che per la freezer C'è un po' e' un'epoca di pratica e' un'epoca e' un'epoca e' un'epoca un'epoca è un'epoca è un'epoca e' un'epoca un'epoca c'è un'epoca che stanno ma e' un'epoca per loro deve essere così normale sto mandando alla swim swim, swim, swim si e' un'epoca il nome credo e' un'epoca e' chiusa ma' aperta tutte le vetrate buon sto per avere un figlio sto per avere un figlio quando c'è il spirito wow dove sono? bene bene adesso chieda margina si si no no si 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 ah ah Grazie a tutti Grazie a tutti